Rieccoci qui dal salone del risparmio 2019, siamo in compagnia di un ospite che i nostri telespettatori delle fonti tv conoscono per la trasmissione Road to Invest, ma che adesso vediamo fisicamente qui al salone Matteo Lenardon di LegMason, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, ciao Alessia. Allora Matteo Conte, cerchiamo di dare ai nostri telespettatori un po' una view rispetto alle strategie di investimento per il 2019. Con piacere, sicuramente veniamo da un'ultima parte 2018 molto turbolenta, volatilità sui mercati del rischio, quindi azionari, importante. Probabilmente questa parentesi del primo trimestre 2019 arriverà al termine, quindi significa ancora turbolenza, ancora volatilità. Il nostro suggerimento è quello di iniziare a posizionarsi soprattutto in quell'ambito, quindi sulla parte rischiosa del portafoglio, su strategie difensive, azionarie globali difensive con un tema che ci è molto caro. È un tema importante, è un tema che segue la crescita secolare e ha delle caratteristiche intrinseche e difensive e è il tema delle infrastrutture quotate. Ecco, a proposito di questo tema, possiamo dare qualche informazione in più? Assolutamente. Allora, LegMason, essendo una holding proprietaria di nuove case di investimento, ha alcune specialità al proprio interno. Tra queste, il tema delle infrastrutture quotate, con un affiliato, il nostro Rare, quindi Risk Adjusted Return on Equity, è un operatore australiano esclusivamente dedicato al mondo delle infrastrutture. Rare Infrastructure ci offre, anche in formato USITS, un fondo che è il LegMason Rare Infrastructure Value, un fondo globale con approccio value a che cosa? Il mondo delle infrastrutture, però, direi la parte più core, più difensiva delle infrastrutture, quindi parliamo di società quotate in tutto il mondo, che hanno come business, da un lato, le cosiddette utilities, quindi trasmissione di energia, ad esempio, sul mondo elettrico, ma non solo, sul mondo gas e così via, c'è molta meno sensibilità alle commodities, in primis al petrolio, da quel punto di vista, quindi meno volatilità. Ma anche su un altro tipo di comparto delle infrastrutture, che sono i porti, gli aeroporti, le autostrade, le ferrovie. Ecco, lì abbiamo società che soprattutto nel mondo emergente, direi, ma non solo, godono di una crescita che è molto stabile, dei cash flow importanti e stabili a sua volta, anche i prezzi delle azioni sono estremamente stabili, quindi un approccio conservativo e soprattutto crescono con un tasso che va dal 2 al 3%, secondo la legge grafica, in più rispetto a quello che è il PIL del paese, dove l'infrastruttura è presente. Ecco, con questo tipo di portafoglio, un best selection sui 70-80 titoli, che va ad investire in ambito geografico in tutto il mondo, davvero. Parliamo di temi molto interessanti, sul mondo infrastrutture assisteremo a decine e decine di trilioni nei prossimi 20 anni investiti, sia dal punto di vista dei paesi sviluppati, ma anche e soprattutto nel mondo emergente, nelle infrastrutture. Quindi abbiamo sentito parlare di via della seta cinese, ma non solo. A qualsiasi latitudine le infrastrutture saranno nei prossimi anni e quindi, nonostante la fine di un ciclo economico, rimarranno con il vento in poppa da un punto di vista di investimenti. Noi proponiamo una soluzione difensiva, che quindi a fine ciclo possa mantenere più bassa la volatilità nel comparto rischioso azionario e, like Mason Rare Infrastructure Value, crediamo sia una soluzione da iniziare a inserire nei portafogli per aumentare la diversificazione e al contempo abbassare il rischio totale di portafoglio. Perfetto, per cui abbiamo evidenziato una strategia particolarmente interessante, anche con una tematica un po' diversa rispetto a quella di cui stiamo parlando, quindi a maggior ragione anche di ulteriore interesse. Io ringrazio ancora una volta Matteo Leonardron per essere stato con noi. Non mi resta che restituire la linea allo studio.